Bene, allora, io negli anni 90 ho fatto la custodia nel giardino di Boboli, raccapezzata dall'ufficio collocamento, che era perfetto perché d'estate non avevo fatto gli esami, venivo in sostituzione dei custodi. Questi custodi noi eravamo negli anni 90 le prime ragazze che facevano servizio trimestrale, si chiamava, mentre per regola erano tutti maschi, per cui siamo entrati in locali da bonificare perché erano praticamente invasi da calendari da carrozzeria di pessimo gusto e poi appunto non c'era la chiave nel bagno perché erano tutti uomini, per cui noi eravamo malviste perché sembravamo delle uggiose, ma in realtà poi ci siamo anche abbastanza amalgamati. Bisogna considerare che buona parte delle persone che lavoravano nel, diciamo, nel dopoguerra, per cui erano quelli che più o meno stavano andando in pensione quando io sono entrata trimestrale, erano persone che venivano dalla campagna, per cui amavano moltissimo lavorare all'aria aperta, avrebbero avuto difficoltà a lavorare all'interno delle gallerie, ma erano anche bravi perché sapevano tutte le cose della campagna. Alcuni di loro avevano anche quella che era la casa di servizio, cioè un appartamento, spesso erano case abbastanza disagiate, non c'è da pensare che fossero delle bellissime abitazioni, però erano comode perché erano a due passi dal lavoro. E alcune di queste avevano anche delle piccolissime casette che erano a ridosso dei muri di cinta, nelle zone più riparate del giardino, perché ci si poteva tenere la legna e ci si poteva anche tenere le derrate alimentari, come le patate, alcune cose che devono stare al fresco, le mele, insomma tutte queste qui. E uno dei nostri colleghi si vantava continuamente del vino che aveva lui, delle patate come ce l'aveva lui, non ce l'aveva nessuno. E dalle inferiate di questa casetta lì fecero un colpo gobbo di quelli proprio a, come dire, al Pievano Arlotto, cioè riuscirono con delle canne, con dei sistemi che non so bene spiegarvi come, a non soltanto aprirli una damigiana, ma anche succhiarli il contenuto della damigiana che lui trovò abbassato. E per cui poi c'era questo mischedero dei fantasmi del giardino di Boboli che bevevano il vino la notte. Insomma, era tutto un modo di fare anche di campagna. Loro erano tutti, diciamo, persone che provenivano, chi aveva avuto il babbo fattore, chi aveva... e amavano appunto questo vivere all'aria aperta e riproducevano un po' questi scherzi fra gli uomini. E anche noi poi ci siamo abituati a vivere con loro, è stata anche una cosa gradevole, devo dire, perché tutte le estate ci ritrovavamo in questo circolo, ero un po' come stare in circolo Arci. E niente, e poi ognuno di noi aveva ovviamente un soprannome, io ero la professoressa perché avevo studiato e poi avevo gli occhiali fondamentali e dunque la professoressa ero io. E niente, questo è il mio ricordo collegato appunto alle persone che lavorano, che lavoravano con me nel giardino di Boboli almeno una trentina d'anni fa.